Leona Iachimic, presso lo stand Lasvitt. È un'importante giornata questo anno per Lasvitt. Perché? Questo anno Lasvitt ha festeggiato i 10 anni. È stato 10 anni da 2007, da che ho trovato Lasvitt. Potete mi raccontare la nuova collezione? Sono molto orgoglioso di condividere il mondo in Milano. La nostra collaborazione con alcuni ottici, che ho sempre chiesto collaborare. Dopo circa 10 anni, abbiamo deciso di fare questo. È Kengo Kuma, la sua scuola di Yaki Sugi, la sua scuola di Zaha Hadid, la sua EVE e Dune, che mi credo saranno sicuramente successivamente. e la sua scuola di Yabu Puschlberg, che è una bellissima e elegante l'acchia. E poi, con alcuni Hong Kong, chiamati Ed and Terrence, e il loro design di Dune per il table lampo e il flore lampo. In vostra opinione, cosa è il design di oggi? Il design è un modo di esprirsi qualcosa che si senti molto forte. Ovviamente, persone dicono che l'art è un'espressione più forte, ma penso che l'art e il design sono interesse. Un'apici sono un esempio di filosofia, in cui non solo sono l'art, ma sono l'art e sculptori. Un esempio di proprirsi l'art sull'art 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 sull'art. Questa tecnica di'akisugi, l'anchenhosa tecnica di preservare l'art sull'art 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 sull'art. Questa è la mia filosofia sul futuro del design. Abbiamo un processo molto utile e unico dietro. Non solo è difficile da copiarlo, ma che rende la giornata così divertente. Non solo il risultato, ma tutta la giornata.